Alcune considerazioni in premessa, credo su un argomento molto delicato e credo che anche la nostra coscienza e la mia personale sia comunque in conflitto, nel senso che chiaramente portare un atto in cui si liquida una società non è certo un atto piacevole che facciamo a cuor leggero, è un atto che si rende indispensabile anche alla luce dei tempi e delle comunicazioni che ci sono arrivate a partire dagli inizi di dicembre, per cui credo che responsabilmente oggi decidiamo di fare un atto che è di buon governo e di attenzione al futuro della città, con una premessa però, per noi è indispensabile e fondamentale ragionare sulla ricollocazione dei lavoratori, questo è un elemento fondamentale e centrale dei ragionamenti che devono esserci e non vuole essere un elemento perché ci sono i lavoratori in sala e dirlo, ma perché proprio una scelta responsabile deve consentire di costruire poi un futuro anche per i lavoratori, che io credo comunque all'interno della TOP hanno acquisito anche delle professionalità, del rinforzo di competenze professionali e quindi trovo un po' strano il discorso di dire sono preoccupato oggi dei lavoratori, mi dispiace, però nella sostanza per me la TOP era meglio se non fosse mai esistita. Io credo che per i lavoratori forse non è così e credo in questo di interpretare il vostro senso perché lì avete fatto, credo, un'esperienza professionale di un certo tipo, su cui noi siamo attenti e l'amministrazione credo debba essere attenta a trovare le giuste modalità di ricollocazione per persone che hanno operato in un contesto della città, hanno fornito valore aggiunto alla città, hanno costruito una rete di servizi importanti, per cui da parte nostra dal punto di vista politico la piena attenzione è a seguire questi processi che devono portare ad un processo completo che sarà anche lungo, guardate perché quella che apriamo stasera è una procedura che non si conclude in 15 giorni, in 20 giorni, per cui ci vorrà un po' di tempo per cui le procedure poi di liquidazione arriveranno a compimento, ma questo credo che poi sarà anche motivo e oggetto di ragionamenti e discussioni future. Credo che non abbiamo nessuna difficoltà e nessuna paura di sottrarci a tutti i ragionamenti e le riflessioni che verranno e a tutti gli approfondimenti, convinti come siamo che ci sia stata comunque buona amministrazione, perché nella sostanza la società, lo ripeteva Matteo, ha portato valore sociale, valore aggiunto alla città, ha messo in evidenza Matteo in modo chiaro i vari risultati e credo che non ci sono state ricapitalizzazioni ogni due anni come avvengono in molti posti, soprattutto dove amministra qualche altra parte politica, questo lo voglio dire. La Top non ha subito nessuna ricapitalizzazione, ha avuto quel capitale sociale di 100.000 euro che poi abbiamo visto scendere successivamente con le difficoltà che ha avuto. Per cui io credo, questo è il ragionamento di fondo, da parte nostra la necessità e la voglia di approfondire queste questioni ed un processo che secondo me deve garantire la città, perché oggi facciamo una scelta responsabile per la città, ci rendiamo conto che c'è una difficoltà economica, ci rendiamo conto che è cambiato anche il contesto economico in cui operano le società pubbliche, per l'attacco che avete fatto negli ultimi anni in maniera diretta, voi del centro-destra, questo bisogna dirlo, c'è stata la voglia e la volontà politica di smantellare tutto quello che è società pubbliche, questo bisogna saperla di chi è la responsabilità pubblica. Ti chiedo di stare in silenzio per cortesia, io non ti interrogo. Consigliere Fichera, per cortesia, il dibattito sta andando con ordine, la prego, stia zitto, non interrompa. Quindi questo deve essere chiaro, il quadro è cambiato negli ultimi anni, il quadro è cambiato, tutta la normativa ha avuto varie vicissitudini, ad arrivare alla normativa poi che ha costretto a diventare queste società in house, per cui nella sostanza lavorano poi solo per il proprio ente di appartenenza, e quindi questo davvero ha messo le società in difficoltà. Per cui io credo che oggi noi facciamo una scelta responsabile, dura e dolorosa, perché non lo facciamo a cuor leggero, come si suol dire. Ne sentiamo la responsabilità, ne sentiamo la responsabilità e proprio per questo dobbiamo mettere in atto tutti quegli addempimenti necessari per cautelare prima di tutto i lavoratori, cautelare il futuro della città ed evitare che ci siano situazioni che possano diventare più complicate ancora dal punto di vista economico nel futuro. Quindi questo è un po' il senso di questo ragionamento. Poi è chiaro, ci sta nei ragionamenti, anche nella dialettica politica, io capisco anche i ragionamenti che fa l'opposizione, e sono legittimi, nel senso che ognuno poi esprime chiaramente le proprie posizioni. Noi oggi facciamo una scelta responsabile, responsabile nei confronti del futuro e della città. Però davvero io credo che non può essere disconosciuto un ruolo che dal 2002 a oggi ha portato dei risultati. Io guardate, la scelta... Consigliere Garota, per corsia, vada verso le conclusioni. La scelta politica di creare un'interfaccia con il mondo delle imprese da parte, diciamo, dell'ente locale come scelta politica di fondo, io la sposo ancora oggi perché è un ragionamento importante che ci contraddistingue come forze di centrosinistra. Grazie, Consiglio.